bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi le tonnellate di novità continuano ad arrivare in questa season 3 del capitolo 2 di fortnite io personalmente mi sto divertendo tanto tanto mi piace la mappa mi piacciono le location mi piace quello che sto leggendo e che vi sto dicendo nei video news perché sarà una grandiosa season oggi parleremo delle macchine dai lo vogliamo sapere parleremo anche però dello starter pack e se avremo tempo anche del nuovo bundle di ps4 e molto altro prima però volevo ringraziare come sempre tutti i ragazzi che mi supportano con il mio codice creator xyuderone quando ci ho pazzate di prepotenza nel negozio mi raccomando ragazzi non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video news ma allora andiamo direttamente a parlare della prima notizia di oggi e ci sono delle informazioni per quello che riguarda il pack loser fruit vi ricordo come sempre il nuovo set delle icon series quindi la ragazza che state vedendo alla vostra destra si dice che verrà rilasciato il 21 giugno vi chiedo come sempre di prendere però con le pinze questa notizia perché già c'è stato un rinvio anzi un doppio rinvio di questo bundle non si sa bene in realtà perché cosa un po per l'arrivo della season un po per le storie che sono successe ormai due settimane fa il 21 potrebbe essere la data giusta quindi incorciamo le dita e speriamo di vederla insieme al suo doppio piccone e all'emote integrata ma andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché volevo subito dare qualche informazioni allora informazione allora mi fai vedere il trailer della season 3 e porca vigliacca mi mostri le macchine per chi ancora non avesse visto lo spezzone del trailer ce lo riguardiamo insieme cioè guardate già questa immagine che è meravigliosa di per sé un pick up americano con un tizio che guida un tizio che spara e già fin qua mi hai fatto il videogioco ma è inseguito da una lamborghini innanzitutto beccatela qua lamborghini in meraviglia dietro il pick up o meglio il pick up che gli sta sparando ma guardate da qua ci sono altri quattro veicoli a sinistra in alto quella che sembra essere una subaru una macchina arancione poi c'è un taxi sopra al camion di reboot e quello più cool di tutti ragazzi il camion giga quindi il rimorchio che fa tanto transformer seguito da un altro pick up visto così ragazzi ci sono cinque nuovi veicoli ma quando quando questi veicoli verranno rilasciati si pensa molto probabilmente tra la patch 13.10 e la 13.20 stanno facendo centinaia di test sui veicoli e su tutti i prossimi update di questa season perché probabilmente per inserire una cosa così innovativa addirittura con il discorso che il giocatore può starci sopra beh sono sicuro che non vogliano farli uscire male però abbiamo delle notizie e degli aggiornamenti nelle ultime ore è stata aggiunta questa stringa di codice che fa riferimento anzi vi leggo la descrizione che dice tag to track if player is refilling gas tank from gas pump allora ragazzi è una figata incredibile vi spiego meglio facendo vedere questa immagine siamo già abituati a vederla perché è arrivata oramai parecchi mesi fa addirittura nel capitolo 1 se non ricordo male che poi non è mai stata resa come dire non poteva interagire con il personaggio fino alla prossima pace o fra due pace praticamente utilizzando le tanniche di benzina che vengono segnate come petrol come ammo quindi come munizione tre virgolette noi dovremmo recarci alle gas station quindi ai benzinai per fare il refill e mettere la benzina nei veicoli è una roba incredibile perché aggiunge tonnellate di novità a quello che è un gameplay caratterizzato dalla presenza minimale dei veicoli adesso dai parliamoci chiaro escludiamo i mecca e va bene erano p escludiamo gli aeroplani nella season 7 che potevano anche essere fastidiosi ma se devo essere sincero gli elicotteri non sono così non sono così fastidiosi e tutti gli altri veicoli che abbiamo visto si integravano bene con il gameplay inserire invece delle auto con la possibilità di spararci da sopra secondo me rivoluzionerà parecchio il gameplay comunque appena avrò delle novità le saprete anche voi andiamo avanti a parlare di un altro argomento molto importante ve lo ripeto anche in live su twitch tutti i giorni ma ve lo ricordo ancora questa season sarà caratterizzata da otto fasi come vedete alle mie spalle c'è una mappa divisa in otto quadrati che se la osservate con attenzione noterete emergere parte della della mappa della terra calpestabile quindi non vi preoccupate per tutti quelli a cui non piace ancora la mappa con tutta quest'acqua perché piano piano riemergeranno parecchie location otto location confermate più altre che stanno per arrivare le location sono ad esempio fatemi pensare mi viene in mente adesso rapide rischiose che è sommersa ma riemergerà anche parte del pantano e saranno tutte non uguali a come le siamo abituati a vedere ma avranno appunto il discorso dell'inondazione quindi roba rovinata cose distrutte macchine ribaltate insomma sarà veramente bello saranno praticamente delle location nuove e parlando di nuove location ieri ve ne ho fatta vedere una oggi ve ne faccio vedere un'altra che probabilmente arriverà nella metà di questa season si chiamerà the ruin falls quindi la caduta delle rovine adesso io non saprei tradurvela con precisione ma la cosa che ci lascia un attimino sul chi va là è il cesso c'è una un toilet come vedete una toilet che probabilmente secondo me questo non è confermato è una mia idea potrebbe essere un passaggio un po come quello che siamo abituati a prendere per spostarci da una parte all'altra di una location non sappiamo bene se questa location avrà a che vedere con aquaman perché ieri ne abbiamo vista una che gli assomigliava molto ma non è la stessa staremo a vedere ragazzi non lo so io ve le faccio vedere e andiamo avanti perché invece questa è un'altra cosa molto interessante è stato aggiunto nuovamente o meglio è stato aggiornato la stringa è stata aggiornata la stringa relativa al nuovo starter pack non sappiamo il nome della ragazza ma tutti la chiamano yellow jacket e questo che state vedendo invece è il logo ufficiale l'avevamo già vista nella precedente season verso il finale della precedente season non è stata mai rilasciata capiamo benissimo che è un bundle perché c'è il logo dei vbucks quindi probabilmente anzi certamente 4 e 99 ho un video da farvi vedere mentre ve ne parlo un secondo intanto la vediamo ballare un emote che non è ancora stata rilasciata la schiena è davvero molto carina sarà corredata di piccone sarà corredata anche di backpack ma mi ricordo che il deltaplano che fa parte dello stesso set non sarà incluso nel set che ovviamente comprenderà i soliti 600 vbucks quindi io vi consiglio come sempre di prenderli gli starter pack perché vale davvero la pena anche solo per i vbucks è molto molto carina come skin un altro starter pack da avere in collezione e andiamo avanti perché insieme a quello bam guardate qua questi tre oggetti sono molto molto probabilmente quelli che faranno parte del nuovo bundle di ps plus quindi torna finalmente un nuovo pack per i possessori appunto della console sony stratosphere il nome del deltaplano wave crest il nome del piccone e sky sail il nome del deltaplano sono classici niente di esagerato però gratuiti come sempre per chi appunto ha ps plus playstation plus e quindi non sappiamo la data di uscita quindi ragazzi questo ancora non si sa io credo che non dovrebbero tardare parecchio ma tanta tanta roba e se ce la facciamo l'ultimo argomento di oggi ve lo faccio vedere perché è tutto il set di aquaman aquaman ancora non disponibile ma abbiamo già la prima sfida che possiamo completare ottenendo 5 sfide se non ricordo male sbloccheremo proprio la skin quindi ringraziamo come sempre happy games per regalarci di nuovo una skin gratuita insomma ragazzi io vi ringrazio tantissimo per avere guardato anche oggi il video news mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali lasciate un bel like a questo video e a me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao ciao